Buongiorno ragazzi, stamattina qui sul Talcavia un disastro, mentre veniva a Faenza c'è stata una buca, c'è creata una buca all'ingresso del Talcavia e sono state coinvolte un sacco di macchine che sono ferme per cambiare le gomme e la polizia sembra che sia arrivata un po' in ritardo ma che abbia bloccato il traffico in quella zona lì, adesso sto arrivando giù, anche se qui veramente tutte le mattine è un disastro, potete vedere anche voi le macchine coinvolte. Tutti con le gomme diciamo brutta. Arriviamo qua che adesso è già arrivata, io sono passato dieci minuti fa, è arrivata la polizia, adesso mi sembra di vedere in lontananza che ci sia anche il camion. L'America deve esserci, questa situazione dice che siamo un punto di svolta, un punto importante che determinerà in futuro e quindi per questo motivo bisogna sostenere la società americana all'estero. Questo lo dice perché ci sono, cioè nella società americana come si sa ormai la popolazione ma a voi le ricordate le umbrite con i polici Grazie a tutti.